L'importanza degli open data nella pubblica amministrazione e le ricadute positive per i cittadini? La disponibilità di grandi quantità di dati a basso costo ha generato nella nostra società una nuova centralità del dato a tutto campo. Quindi il movimento per la trasparenza che c'è sempre stato adesso è diventato un movimento per l'apertura dei dati open data in formato leggibile da computer e con licenze aperte. Allo stesso modo il movimento per la salutista è diventato un movimento per il quantified self in cui i cui aderenti perseguono i loro ideali di salute e bellezza monitorando il proprio corpo e condividendo i risultati del monitoraggio in rete. Il giornalismo ha gemmato un sottogenere, il data journalism basato sull'analisi di grandi quantità di dati e la costruzione di storie credibili dal punto di vista causale che partono da quei dati. Tutti questi sono aspetti di quella che ormai cominciamo a chiamare la data society, la società dei dati e la nuova sfida che abbiamo come democrazie è quella di cavalcare quest'onda, non fermarla perché non credo che lo possiamo fare, ma imparare a cavalcare quest'onda per migliorare il modo in cui ci governiamo e il modo in cui collaboriamo per governarci. Nel mio talk di oggi ho parlato essenzialmente di questa cosa.